Il Comune introduce buoni pasto digitali per evitare le lunghe coda negli uffici comunali di Palazzo San Francesco, ma il pagamento online del portale informatico non funziona. Ecco spiegato il disservizio che era stato segnalato nelle ultime ore dalle famiglie che hanno iniziato la corsa contro il tempo per l'acquisto dei buoni pasto digitali. E nell'anno delle novità e disagi non mancano. Si tratta di un problema tecnico-informatico della ditta appaltatrice. Fanno sapere dal Comune che ha avviato l'incontro con le famiglie per spiegare tutte le novità del servizio per prenotare, pagare e gestire buoni pasto per il servizio di rifezione scolastica in via telematica, ma per la messa in funzione ci vorrà ancora qualche giorno. Nel frattempo gli utenti possono pagare su conto corrente postale intestato al Comune numero 12 12 26 77 o il conto bancario all'Iban che è riportato sul sito istituzionale dell'ente www.comune.sulmona.acu.it oppure direttamente in Comune domani sabato 28 settembre dalle 9 alle 13 presso l'Aula Consigliare e nella settimana dal 30 settembre al 4 ottobre anche tramite Bancomat, carta di credito, carte di pagamento analoge. Intanto è sempre comune a comunicare che d'intesa con la ditta appaltatrice a partire dall'avvio del servizio di rifezione scolastica previsto per il primo ottobre prossimo, sarà possibile utilizzare i boni pasto cartacei acquistati per l'anno scolastico precedente, ovvero 2018-2019, ma non consumati e residuati. In tale ipotesi è necessario presentarli ogni mattina, come la vecchia modalità di consegna, al personale scolastico preposto a ritiro giornaliero. Il genitore riceverà istruzioni con sms sul cellulare indicato in serie di registrazione del figlio al portale informatico Mensa per la notazione quotidiana da effettuare su sistema informatizzato in caso di utilizzo del buono cartaceo dello scorso anno.